Una produzione ANS TV Spazio Informazione In collaborazione con il direttore di ReteMessina.it Antonio Genovese Oggi con noi il professore Luca Donato, presidente dell'associazione Ollus La Linea Curva. La domanda è di rito come, quando e perché nasce La Linea Curva? La Linea Curva è un'associazione di genitori che hanno condiviso questa avventura di avere figli nello spettro dell'autismo. Nasce oramai dieci anni fa, nel 2013, da un gruppo di genitori che era stato inserito all'interno del progetto Prima Pietra del Policlinico. Da questa esperienza ci sembrava significativo metterci insieme per poter contribuire un po' a migliorare quella che era la conoscenza dell'autismo in generale, ma anche per supportare eventualmente altre famiglie che si ritrovavano nella nostra stessa situazione. Parliamo un attimo dell'autismo. Quali sono i primi segnali e perché bisogna intervenire i primissimi segnali? Allora, senza nessuna pretesa di avere o di dare una definizione, non sono un medico e quindi do così delle indicazioni generali. È importantissimo, oramai lo dicono tutti gli studi scientifici, individuare i primi segnali dell'autismo sin dalla teneretà, perché prima si interviene più si ha la possibilità di migliorare quelli che sono i possibili esiti dello sviluppo di questo problema del neurosviluppo. Poi in generale l'autismo è un problema legato al neurosviluppo, con problematiche legate al linguaggio, alla comunicazione, legato a una difficoltà di socialità e che si esplicita soprattutto in comportamenti ripetitivi, con interessi limitati. I primi segnali sono soprattutto quelli che riguardano lo sguardo sin da piccoli bambini, l'incapacità di mantenere lo sguardo, di incontrare lo sguardo dei propri genitori, che è uno dei primissimi segnali, ma anche il non sviluppare il linguaggio come tutti gli altri bambini. Questi sono i primi segnali, il fissarsi in maniera molto ripetitiva su alcuni oggetti, esprimere attraverso lo sfarfallio delle mani le emozioni. Insomma, ce ne sono tantissimi segnali, ci sono dei decaloghi che si possono trovare in rete molto bene, che aiutano a identificare molto bene quella che è la problematica sin da piccoli. Ecco, l'importante è che se uno ha il sospetto non deve aspettare, deve andare subito da uno specialista perché prima si sa la diagnosi, più si può intervenire. Vi è un progetto denominato Interpares, tra i più innovativi ed inclusivi in Italia, che include anche nove protocolli. Lo scopo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie. Ne parliamo? Allora, il progetto Interpares è stato sviluppato da alcune associazioni, anche con il supporto, soprattutto con il CNR, con l'Istituto Superiore di Sanità. Questo progetto a noi è piaciuto subito e abbiamo aderito con grande entusiasmo perché era un progetto sperimentale, cioè era quello di immaginare un modello che poi poteva essere replicato per cercare di migliorare le condizioni di socialità dei bambini e dei ragazzi con autismo, soprattutto in quella che poi è anche la chiave di lavorativa, la chiave di partecipazione sociale, attraverso tutta una serie di condizioni che intervengono a livello ecologico, cioè su tutti i livelli del disagio e quindi che agiscono direttamente sui ragazzi, ma anche sulla famiglia, sulla scuola e direi anche non ultimo su quelle che è la società in senso lato, cioè nell'accoglienza all'interno dei negozi, dello sport, di tutte quelle che sono le attività quotidiane dei ragazzi. Per questo io trovo che sia rivoluzionario proprio perché ha la capacità di guardare in modo io direi olistico, onnicomprensivo, tutte quelle che possono essere le esigenze che migliorano la condizione della vita dei ragazzi nello spettro dell'autismo. Con l'acronimo ESDM si fa riferimento al trattamento precoce dell'autismo la cui efficacia è stata confermata da vari studi raddomizzati. Quali sono le sequenze di questo metodo? Quali sono i diversi step? Allora fondamentalmente, ripeto, parlo da papà, non parlo ecco da papà che ha avuto la fortuna di avere un figlio che è stato trattato quando era piccolo in terapia proprio con l'early start Denver model. È un modello che proprio su quell'early sta a indicare un intervento precoce e quello di, potrei dire in maniera un po', spero non troppo forzata, di portare, indurre i bambini a recuperare attraverso tutta una serie di specifiche molto stringenti, voglio dire, attività terapeutiche riportarlo, potremmo dire, dentro un binario che lo riavvicina a quello che è la neurotipicità. ovviamente è un trattamento che richiede un'attività intensiva, praticamente quotidiana e che ha anche il pregio di coinvolgere la famiglia proprio perché la famiglia che vede partecipare alle attività terapeutiche poi può ripeterle anche a casa e in famiglia. Io mi ritengo fortunato ad aver incontrato persone che mettevano in atto questo modello e i risultati credo che siano ben visibili. A fine marzo mi è capitato qualcosa, di leggere qualcosa che mi ha commosso, che dovrebbe essere la normalità ma che invece rappresenta l'eccezione. Gli studenti della quinta Q del liceo Martini di Savona hanno chiesto espressamente ai docenti, al dirigente, di permettere la partecipazione alla gita di fine anno che si sarebbe svolta a Vienna di un loro compagno di classe autistico. Un gesto di affetto che grazie al benestare dei vertici scolastici e della mamma del ragazzo ha permesso a Mattia di vivere un momento di svago e di serenità. Da docente le è mai capitato qualcosa del genere? Allora sì, da docente è un'esperienza bellissima e noi sappiamo che queste esperienze insomma delle gite, delle esperienze sociali e di tutto ciò che è extrascolastico è fondamentale per la crescita degli alunni con disabilità. Oserei dire che è bellissimo ma non è straordinario, nel senso che nella scuola è previsto che gli alunni con disabilità proprio nella progettazione iniziale delle classi partecipino attivamente a tutte le attività che contribuiscono alla crescita dei nostri alunni tanto quanto poi le attività curriculari. Personalmente mi è capitato nei miei anni di insegnamento di poter partecipare a momenti in cui i ragazzi con disabilità hanno attivamente partecipato ad attività con diciamo extrascolastiche di gite e devo dire che ogni volta i risultati sono sempre entusiasmanti anche grazie all'aiuto e alla grande sensibilità dei compagni di classe. In tutti questi progetti, in questi protocolli come si presentano i docenti, la scuola e le famiglie? Allora, i docenti quasi sempre mostrano una grandissima sensibilità. Certo c'è un problema all'interno della scuola italiana che quasi sempre però è dettato da risorse, da possibilità. Ci sono scuole dove è più facile, è più semplice dedicarsi magari ad un progetto intorno ad un alunno con disabilità. Ci sono situazioni e scuole dove questo diventa molto più complesso per una serie di condizioni che sono legate al numero degli allunni presenti o anche molte volte alle condizioni sociali del contesto in cui si realizzano. Ecco qui il gioco è sempre un gioco a 360 gradi in cui entrano sì i docenti nel loro ruolo ma poi anche le famiglie. In chiusura vogliamo ricordare, anzi vogliamo dire per la prima volta come farà a contattare voi della Linea Curva? Allora ci possono contattare grazie alla nostra pagina Facebook o anche alla nostra pagina internet che è lalineacurvaholus.it dove trovano i contatti sia mail, telefonici eventualmente per entrare in contatto con noi. Professore io la ringrazio, la ringraziono anche i nostri radioscoltatori, lei è il presidente della Linea Curva, una onolus, noi di Spazio Informazione ci sentiamo tra sette giorni. Abbiamo trasmesso una produzione Hans TV Spazio Informazione in collaborazione con il direttore di Rete Messina.it Antonio Genovese